un videocorso di ceramica a meno di 30 euro non è possibile è possibile di nuovo di nuovo pazzesco insieme alla fantastica illustratrice sonia cuculelli abbiamo creato un videocorso completo pazzesco che puoi acquistare sul sito di ceramica per tutti punto it e vedere quante volte vuoi e dentro c'è di tutto c'è di tutto c'è la modellazione la decorazione con gli ingobbi come preparare gli smalti come effettuare la smaltatura e come fare tutte le cotture nel fornetto magico e quindi non hai bisogno di un forno tradizionale per la ceramica lo puoi fare direttamente a casa decorazione con il lustro oro praticamente anche la cottura a terzo fuoco e il corso è pazzesco è bellissimo e poi il prezzo se acquisti solo il corso costa 29 euro e 99 se acquisti il corso più il fornetto magico costa solo 100 euro invece di 130 quindi adesso ti faccio vedere la intro del corso e poi mi dici quello che ne pensi ti diamo il benvenuto in questo corso di modellazione e decorazione della ceramica io sono enrico tramacere maestro ceramista e creatore del sito www.ceramicapertutti.it io sono sonia illustratrice e ceramista insieme abbiamo ideato e prodotto questo corso completo che ti permetterà di realizzare i tuoi primi oggetti in ceramica dall'inizio alla fine per questo corso non avrai bisogno di avere un forno professionale perché tutte le creazioni che realizzeremo le cuoceremo nel fornetto magico per questo corso abbiamo deciso di realizzare con l'argilla bianca dei piattini dei porta tovaglioli e dei porta candele e di decorarli con dei temi natalizi durante questo corso imparerai a modellare l'argilla per creare i tuoi primi manufatti in ceramica imparerai a decorarli con l'ingobbio e a effettuare la prima cultura biscotto nel fornetto magico ti mostreremo come preparare la cristallina e smaltare le tue creazioni e procedere alla seconda cottura in ultimo vedrai come impreziosire le tue ceramiche tramite l'utilizzo del lustro oro e come procedere alla terza cottura guideremo passo passo attraverso tutte queste fasi non ti resta che sporcarti le mani e iniziare la prima lezione di questo corso buon divertimento e buona ceramica con questo video corso praticamente avrai tutte le conoscenze necessarie per far partire la tua carriera da ceramista o anche magari solo un hobby o un passatempo ma il corso è veramente completo di tutto quindi se l'intro ti ha stuzzicato un po vai sul sito clicca in alto nel link corsi registrati e leggi tutte le informazioni del corso fammi sapere che ne pensi e ci vediamo presto con nuovi video sulla ceramica ciao ciao ciao